La squadra è anche in una buona condizione, martedì abbiamo fatto una buona partita, anche se i primi 20 minuti abbiamo sofferto. Domani andiamo a giocare su un campo difficile, difficile perché il Verona non è promossa, c'è grande entusiasmo in città, è una squadra che gioca molto bene a calcio, è una squadra che è ben organizzata, non sarà una partita facile, però per noi sono importanti i tre punti e bisognerà cercare di ottenerli, giocando bene, stando molto attenti e facendo una partita giudiziosa. Lei mister è stato l'allenatore di Stefano El Ciaravi negli ultimi due mesi della scorsa stagione ed è l'allenatore di Stefano El Ciaravi adesso, sono lo stesso giocatore? Sicuramente in questo momento sta facendo meglio, mentalmente i due gol fatti in Germania, la buona prestazione fatta in America e il gol di martedì, hanno fatto sì che a livello psicologico è un altro giocatore, il giocatore non è cambiato rispetto a quello che era l'anno scorso perché le qualità di Stefano sono rimaste, anzi deve continuare a lavorare per migliorarle, è normale che un ragazzo di 20 anni che si è ritrovato come lui l'anno scorso ad essere ribaltato a livello mediatico con un giurone d'andata strepitoso potesse pagare un attimino tutto quello che ha fatto e quindi questi due mesi, gli ultimi due mesi dove sicuramente non è stato all'altezza delle sue qualità gli sono serviti per capire che nel calcio quello quello che si fa rimane di buono ma il giorno dopo si è atteso da un'altra prova importante, decisiva, soprattutto quando sei in una grande squadra, una squadra importante come il Milan che ogni tre giorni deve giocare una partita per vincere. Buongiorno Max, il Milan è più forte di quello dell'anno scorso oppure mi dici ne parliamo fra una settimana? No, non so se è più forte o meno forte, so solamente che è un anno che lavoriamo insieme, la squadra si conosce meglio, lo dimostra anche il precampionato, la prima partita di Champions, credo che poi dopo singolarmente i ragazzi siano cresciuti, devono crescere ancora e di conseguenza che se crescono i singoli cresce il collettivo. Ripeto, l'ho detto diverse volte, non voglio essere noioso, la cosa che mi dispiace in questo momento è non avere pazzini a disposizione, anche se Petagna sta facendo molto bene, sta crescendo, però è un ragazzo del 95 che non gli si possono mettere addosso certe responsabilità e sono sicuro che il giorno, magari anche domani, verrà chiamato in causa, si farà valere. Quali certezze avete che vi possono garantire una partenza non del Milan di Allegri, del Milan, perché anche il Milan non di Allegri non partiva sempre in maniera straordinaria? Era un po' una caratteristica, perché non voglio dire che il Milan deve andare in testa di 20 punti, ma almeno non regalare Handic. Ma no, credo che la partita di martedì ci sia servita per calarsi subito a livello mentale anche nel campionato, perché un conto è giocare l'amichevole, un conto è giocare le partite che contano dove c'è qualcosa in palio. Noi dopo aver fatto cinque partite, sei partite di precampionato contro ottime squadre, contro grandi squadre, la partita di martedì sicuramente aveva una valenza sotto l'aspetto mentale, così i ragazzi sono stati molto bravi ad affrontarla nel giusto modo e ora dovremmo essere altrettanto bravi domani a giocare una partita a Verona, una partita difficile dove però bisogna vincere. Sul piano tecnico-tattico difficoltà domani? Difficoltà, difficoltà perché il Verona è una squadra che innanzitutto è giocatore davanti, che è Toni che spesso fa gol, è una squadra che chiude molto bene gli spazi, è una squadra che ti concede poco e soprattutto è una squadra che aveva grande entusiasmo, gioca dopo diversi anni di nuovo in Serie A e quindi sarà supportata dal pubblico e quindi noi bisogna fare una partita di buona tecnica, di grande pazienza e sapere che le partite si possano vincere anche alla fine, cosa che non è successa a martedì quando abbiamo avuto un po' di occasioni e quindi bisognerà fare una partita di grande squadra, con personalità, come la squadra ha fatto sicuramente dopo i 20 minuti di Eindone. Hai parlato del pubblico di Verona, come giudichi le parole del sindaco di Verona e Tosi riguardo al razzismo, riguardo a Ballotelli eccetera eccetera? Per quanto riguarda quello che ha detto il sindaco, credo che sia meglio se rispondesse un altro sindaco e non io. Per quanto riguarda il razzismo credo che il razzismo non sia Ballotelli ma il razzismo sia solamente una mancanza di cultura che purtroppo in Italia abbiamo ancora. Mario è molto sereno come tutti gli altri e noi domani penseremo solamente a giocare e credo che anche Verona, che è una città di grande cultura, domani verrà allo stadio perché deve essere una parte di calcio, perché deve essere uno spettacolo, perché deve essere una festa, perché Verona dopo tanti anni ritorna in Serie A e quindi andare a rovinare una giornata del genere per un po' di neanche imbecilli, di gente che non ha cultura credo che potrebbe essere veramente un peccato.